Onorevole Concetta, donna merfide d'ingrata, sono venuta a Roma apposta per vedervi di persona e mi è stato detto in faccia, l'onorevole è occupata, ma l'avete fatta sporta, brutta pezza di mascalzone. Onorevole Concetta, ma vi ho vista sul portone sotto il braccio di un collega con un'aria giovanetta che vi fate massaggiare, fate la depilazione perché prima c'avevate la papuscia e la barbetta. E dimmi che ho fatto tanto, ve ne siete già scordati, il microfono persino in quei giorni vi ho prestato, un microfono che avevo fra le cose mie più care, che nemmeno da mia moglie lo facevo maneggiare, ma l'avete storzellato, ve lo siete mozzicato, io non so, ma fatto sta, quando vado per l'usato non riesce a funzionare e sta buca a caia là, guardate che è ma come no. Onorevole Concetta, per San Dino fu discorso, vi sono fatti il viaggio in terza con un treno accelerato perché mica come voi, tengo il libero percorso con il posto col cartello scritto sopra riservato. Donna infame, ricordate quella serie di scrutini che vi portai a mozzarella, salamo, latticini e vi fece una siringa che stavate un po' agitata e poi dopo capo e capo ci facemmo la votata. Cosa feci quel 18? Quanti imbrogli combinai? Favate la soddisfazione quattro volte ma votai e voi sempre più cumaniosa, dallo, dallo, un'altra ancora e io sotto come un pazzo dentro e fuori, dentro e fuori che alla fine stetti male, fu l'oseggio elettorale, non poteva camminare. Voi diceste andiamola, per cinque anni lo si sa, tu voi sta senza votare. Onorevole Concella, in quei dì delle elezioni prometteste molte cose, noi faremo, noi diremo e poi invece di pensare agli aumenti, alle pensioni, voi pensate alla chiusura del casino di Sanremo. Dovevamo prevederlo, siamo stati dei cretini, non appena le signore sono arrivate in Parlamento, prima cosa che da fanno, fanno aiuto di casino, ma noi ci ribelliamo contro dal provvedimento. Come dite? Sono follie questi illeciti sollazzi? Siamo pazzi? Ebbene, avrete pure un sciopere di pazza, che se approvano la legge e ti fanno la serrata, quando poi lo povero uomo deve farsi una giocata, capa, viene a casa vostra e ci tenga la faccia tosta, ma tu glielo devi dire, si può vivere così. Tutta sta severità, buon costumacca e allà, non possiamo più ballà, non ci fanno più gioca, una poteva crepà, a chi vanno e a chi vanno? Abbassano l'onorevole concetta, abbassano l'onorevole concetta!